Cosa puoi ricevere anti-xp? Se anche tu puoi riceverlo 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai lasciare un bellissimo like in questo momento si puoi ricevere anche tu tantissimi xp Mi raccomando shop è il nuovissimo, passo oggi con il codice CodingM582 In questo modo supporterai per altri video del genere Ora andiamo qui su codici e andiamo a mettere questo codice Beh quindi appunto il codice deve andare a mettere esattamente questo qua di questa mappa Quindi vado a vedere un attimo qui sulle recenti Questo qua è il codice, andiamo prima in selezione appartiene da essere pubblica ma privata E vi consiglio di giocarla con un amico Ok perfetto ci siamo, dove aver scelto il tema delle nostre carte che siamo appunto con il nostro amico Dobbiamo farci dare appunto il permesso se siete già il vostro turno Come vedete non possiamo vedere la carta dell'altro giocatore perché questo qua è il gioco indovina chi E quello che dobbiamo fare è andare a sparare esattamente la nostra carta Quindi ho visto sul suo schermo oppure un vostro amico vi dice Guarda la mia carta è questa qua e voi cosa fate? Fate Make Guest qua, accettate e dovete andare a sparare a quella carta Questa carta appunto ci darà 2000 XP Ok questa volta toccava a me, ho scelto la Marvel e ora che siamo qua quello che dobbiamo fare è farci dare come ho già detto il turno Ok una volta che il turno è nostro andiamo a fare Make Guest ma prima dobbiamo sparare tutte quante le carte tranne quella appunto del nostro amico Perché come state vedendo ci darà questi XP che aspettando un po' di tempo si trasformeranno fino a 1000 XP ogni volta che sparate Come state vedendo le occhialate tutti quanti facciamo Make Guest E ora ci darà al secondo round 4000 XP Ragazzi se giocate questa mappa per 10 minuti o siete persone che non avete mai giocato Non sto scherzando vi darà poi 200.000 XP Ve lo dico perché l'ho fatto con un mio amico Alla prima volta 200.000 Poi dopo ho fatto 100.000 E dopo è rimasto fra i 20.000 a 30.000 XP a ogni round Ragazzi puoi utilizzare questa mappa perché potete farmare davvero tanto Beh quindi mi raccomando codice coding e marching world 2 E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Bye